E' successo che non si è avviato nessun confronto vero, a parte una richiesta alla riduzione del cuneo che però non lo sta facendo come l'abbiamo chiesto noi, strutturale, intanto è solo per sei mesi, è solo per i lavoratori e non coinvolge i pensionati, sul resto siamo di fronte a tavoli finti, sulle pensioni non c'è nulla, sulla sanità continuano a tagliare, sulla riforma fiscale in realtà vogliono andare alla flat tax e stanno aiutando gli evasori fiscali, sulla questione della lotta alla precarietà non sta succedendo assolutamente nulla, sul salario minimo non lo vogliono fare, sul rinnovo dei contratti pubblici non stanno mettendo un euro, in più questo governo continua a dire che vuole cambiare la Costituzione, quindi peggiorare addirittura il quadro, noi non ci stiamo e stiamo pensando ad una mobilitazione, non da soli, insieme a un mondo associativo molto vasto abbiamo già messo in programma e il 7 di ottobre ci sarà una grande manifestazione a Roma in piazza San Giovanni proprio per dire che noi vogliamo una strada diversa, la via maestra è applicare la Costituzione e investire sulla sanità e combattere la precarietà e aumentare i salari.